Sono passati 80 anni da quell'8 settembre 1943, da quell'armistizio dal quale si fa partire la guerra civile italiana. 80 anni nei quali naturalmente abbiamo perso tanti di coloro che combatterono quella guerra, molti non sono più tra noi. E vale la pena di pensare se a 80 anni di distanza, se a così tanto tempo di distanza, sia ancora giusto riflettere sulle differenze delle opinioni e delle posizioni degli uni e degli altri. Se valga ancora la pena rimarcare che coloro che imbracciarono il fucile per liberare l'Italia dalla dittatura nazifascista erano dalla parte del giusto e invece erano dalla parte sbagliata coloro che imbracciarono lo stesso fucile per sostenere i nazisti e i fascisti. Io penso che sia, nonostante il tempo passato, ancora un dibattito molto importante che abbia riflessi su ciò che siamo oggi, sulla nostra vita quotidiana, sulla nostra comunità, sul nostro paese, sulla nostra repubblica. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi, che è il 5 aprile 2023. Io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia ogni giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Devo cominciare l'episodio di oggi del podcast con moltissime scuse a tutti voi, perché ieri per un incidente tecnico banalissimo, la qualità dell'audio del podcast era veramente pessima. E infatti, oltre alle scuse, vi devo anche dei ringraziamenti, perché i dati di ascolto sono stati buoni, nonostante appunto la puntata fosse difficile proprio da ascoltare materialmente. E quindi grazie per la vostra fedeltà al nostro appuntamento quotidiano, grazie appunto per aver ascoltato l'episodio di ieri della versione di Ivan, nonostante le difficoltà. E grazie a questa comunità che sta crescendo lentamente, ma in modo costante, stiamo diventando sempre di più per me un grande piacere, un grande onore avere questo appuntamento con voi. E tra l'altro, visto che ci siamo, lasciate anche che vi ricordi che potete abbonarvi a questo podcast indipendentemente dalla piattaforma dove lo ascoltate, quindi sia essa Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, su tutte le piattaforme c'è un bottone che potete piggiare per ricevere una notifica quando la puntata è online. Io cerco di essere online più o meno sempre alla stessa ora, intorno alle 9 del mattino, ma purtroppo non sempre mi riesce. Per esempio, oggi sono oggettivamente in ritardo, quindi se vi abbonate ricevete un messaggino sul vostro cellulare che vi dice che la puntata è disponibile, così non vi dimenticate di ascoltarmi. E visto che stiamo facendo questi discorsi, lasciate anche che ringrazi Radio Leopolda, perché questo podcast va in onda anche tutti i giorni su Radio Leopolda, e quindi saluti agli ascoltatori di Radio Leopolda, che sono naturalmente un gruppo al quale sono molto affezionato. E tra l'altro Radio Leopolda fa anche delle repliche durante il fine settimana, quindi anche quando non registro il sabato e la domenica potete ascoltarmi. Insomma, grazie davvero a tutti voi. Detto questo, passiamo all'argomento del giorno. Oggi avremo in Senato una discussione che voglio anticiparvi, è una discussione sul calendario. Questo mi dà anche la possibilità di raccontarvi come funziona il calendario dell'Aula. Di solito sono i capigruppo che si mettono d'accordo, trovano un punto di mediazione su cosa debba essere discusso. Quando questo non riesce, è l'Aula direttamente a farsene carico. E questo è il caso di oggi, perché c'è stata una mozione che è stata presentata dal Partito Democratico, dal suo nuovo capogruppo, Francesco Boccia, e la maggioranza ci ha proposto di discutere questa mozione il giorno 12, il PD vorrebbe farlo proprio oggi. Vi anticipo che noi ci asterremo perché l'argomento non è un argomento che scade, quindi se la cosa si fa oggi o si fa il giorno 12 aprile, grosso modo è uguale. Però sarà importante discuterne e quindi vi anticipo di che cosa si tratta. Vi leggo il dispositivo di questa mozione, cioè la parte diciamo relativa all'impegno del Senato, che appunto si impegna, e qui leggo, ad adottare le iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica e condivisa e possano solo così essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un'identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità. Di che cosa si tratti è chiaro, è evidente che nonostante il fatto che Liliana Segre abbia aperto proprio la legislatura presiedendo il Senato e dicendo quel giorno delle cose importanti, dicendo che le date del 25 aprile, del 2 giugno dovrebbero essere date intorno alle quali ci stringiamo tutti, purtroppo così non è. Ed è questo un male per il paese, devo dire che poi rispetto alle parole della senatrice Segre le cose sono andate anche peggio di quello che pensassimo, non è neanche necessario che vi faccia gli esempi di quello che ha detto la russa su via Rasella, che erano stati uccisi in quell'occasione dei musicanti altoatesini oppure quando Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, ha detto che i morti delle fosse ardeatine erano stati uccisi solo perché italiani e questo ovviamente è una verità molto parziale erano italiani e non solo, ma certamente erano tutti antifascisti e addirittura lo stesso ministro degli esteri italiani proprio ieri ha detto ma sì, ma queste sono discussioni poco importanti in fondo Mussolini ha fatto meno cose buone per il paese di quelle cattive che ha fatto diciamo così, con un giudizio molto morbido perché insomma le cose buone bisognerebbe anche cercare di capire quali siano state e se ci siano state però tutto questo io penso che non debba essere considerato una discussione puramente ideologica qualcuno dice beh il paese ha altre esigenze, altre questioni, altri bisogni, altre necessità ma in realtà secondo me accettare l'idea che noi siamo una comunità e che questa comunità nasce e si fonda su una Costituzione che è chiaramente antifascista è una cosa fondamentale da fare perché se perdiamo di vista ciò che è giusto e ciò che è sbagliato se pensiamo che le opinioni alla fine siano tutte ugualmente degne non ne veniamo fuori, qui il tema deve essere declinato in modo molto chiaro quando ci fu la guerra civile in Italia c'erano degli italiani che stavano dalla parte giusta e italiani che erano oggettivamente dalla parte sbagliata chi oggi magari simpatizza ancora per quella parte oggettivamente sbagliata deve comunque ringraziare il destino, la storia che ha fatto vincere quelli che erano dalla parte giusta perché se oggi noi abbiamo la possibilità di avere un'alternanza di governo e avere lì persone che magari non si riconoscono in quella storia di libertà è proprio perché abbiamo quella libertà e quella libertà va salvaguardata e va riconosciuta come l'elemento appunto centrale, l'elemento che cementa il nostro essere comunità nazionale e le due parti non erano portatrici di opinioni della medesima degnità per la banalissima osservazione che coloro che combattevano dalla parte giusta combattevano appunto per la libertà di pensiero, per la libertà di manifestazione per la libertà di stampa, per la libertà di associazione e chi invece stava dall'altra parte si immaginava un futuro nel quale l'Italia sarebbe stata governata da un partito unico, da un partito violento perché nei confronti degli oppositori i fascisti e i nazisti non è che facevano diciamo un trattamento elettorale, c'era la tortura, c'era l'assassinio, l'omicidio politico i giornali appunto di opposizione venivano chiusi, non si andava a votare e ancora più di questo era un regime, quello che avevano in mente quelli che stavano dall'altra parte della storia, dalla parte sbagliata era un regime appunto che si basava sulla sopraffazione sull'esaltazione del più forte, l'eliminazione, la soppressione fisica del più debole è stato un regime che è stato oggettivamente un regime razzista non soltanto perché ha scritto delle leggi razziste non soltanto razziali ma razziste che hanno espulso i bambini dalle scuole, i professori dalle scuole che hanno deciso come dovevano essere fatte le famiglie se ci si poteva sposare, non ci si poteva sposare se le persone appunto di religione ebraica potessero o non potessero fare certi mestieri tutto questo è successo e quel regime era razzista appunto non solo per quelle leggi ma perché proprio l'assetto teorico del fascismo prevedeva l'idea di esseri superiori e di esseri inferiori ora se noi non ci riconosciamo in questo anche tanti problemi che abbiamo un certo razzismo strisciante guardate che cosa succede negli stadi cosa è successo proprio in queste ore dipendono anche dal fatto che quel ripudio di quelle nozioni di violenza e razzismo non sono forse ancora parte di tutti e quindi quelle date vanno celebrate vanno celebrate con solennità e vanno celebrate da tutti anche e soprattutto da chi oggi ricopre incarichi di grande responsabilità nella nostra Repubblica io mi fermo qui e vi do appuntamento domani la versione di Ivan è un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato all'omonimo libro edito dalla nave di Teseo ispirato all'omonimo libro edito dalla nave di Teseo